Salve a tutti, oggi sono qua per portare la recensione di Weekend di Paura. Prendete il film è del 2019, penso russo, america. Diciamo il film mi ha ricordato un altro film, sempre Weekend di Paura del 1972, per me un capolavoro, grandissimo film, che vi consiglio di vedere. Penso che questo qui sia il remake fatto male, di merda. Prendete il film inizia con quattro stronzi che corrono, che vengono inseguiti dalla polizia, e ti porti da presto sto cazzoanello di fidanzamento, ma mai mi proponi di sposarti. Lui dice, e lui prende l'anello e cerca di fallora facendo una figura del merda, ma potevi evitare, facevi passare altri sei mesi e era meglio. Lei prende l'anello, lancia nel fiume, lui si ingazza come una bestia, e praticamente vediamo che uno dei ragazzi va in... In giro prendere, diciamo, dei rami per accendere un fuoco, e si incontra con un gruppo di quattro, cinque uomini, che praticamente uno di questi è stato aiutato dal padre, praticamente sono padre e figli praticamente, a scappare dal carcere. Quindi si stanno un po' invoscando per non farsi scoprire dalle autorità. E questi qua, fin, gli dice, come va, si mettono a parlare, gli dice, no, vi aiutiamo noi a... a, diciamo, vi insegniamo noi come fare questa cosa con la canoa, scusatemi. Non mi viene la parola, come cazzo si chiama la cosa. E praticamente si avvicina al gruppo questi cinque uomini, uno più brutto dell'altro, che sono super sospettabili che avrebbero fatto qualche cosa di male. Il ragazzo non si sa perché è un coglione, si fida di loro e le porta con i ragazzi. I ragazzi già le ragazze e l'altro ragazzo non... non gli vanno molto al genio. Da qui in poi questi qua cercano di prendere la patronanza e comandare i ragazzi a fare quello che vogliono loro. Una coppia di ragazzi e ragazzo riescono a scappare. Parte questo inseguimento, loro finiscono in questo villaggio che chiedono aiuto, ma quelli del villaggio non vogliono dare una mano. Anzi, si mettono... cioè, non vogliono farsi i cazzi loro, ecco. Uno dei ragazzi riesce a ammazzare, diciamo, uno di questi uomini che è lo zio del... del... diciamo, il capo del gruppo, che è il padre anche dei due ragazzi... di ragazzi, diciamo, su uomini. E prende quello che si incazza ancora di più e ce l'ha ancora con questo... con... con... la ragazza e il ragazzo, diciamo, che vogliono scappare. Che mi sembra che il ragazzo si chiama... non mi ricordo più un cazzo. Scusatemi, ma il film non mi è piaciuto. Lo solito dice che cazzo di recensione di merda ci fai. Però io ve lo sconsiglio... veramente... sembra che dura dieci ore il film, non un'ora e venti. Veramente. Una merda. Una merda pura. Rovinato il remake era completamente diverso. Il remake erano quattro uomini che andavano, diciamo, a fare canoa e poi incontravano questi uomini. Invece qua ci hanno inserito le ragazze che io non ci ho incontrato nulla contro. Va bene cambiare qualche cosa, ma qua è cambiato un po' troppo. E anche in male, manco in bene. Perché quel film era molto girato bene, quello 72, e ci vale prendere cento volte sta merda che è venuto 47 anni dopo. Io non voglio dilungarmi oltre, non voglio rompere i coglioni. Vado alla parte spoiler e poi mi lavo dai coglioni, ecco. Spoiler. Prendi in mente uno dei figli del capogruppo vede che stanno cominciando a fare cazzate, quindi dice papà smettili di fare stronzate, non mazziamo altra gente, porco giudice. Io sono città a galera poco, mi fa fare all'ergastolo, puttana Eva, ma che sei scemo proprio. E quindi il padre, secondo me, ha disturbi mentali, non lo capisce. E parte questa lotta anche contro il padre, questo ragazzo, anzi, si scopa anche una delle ragazze, di quei poverini, non capisco, uno dei ragazzi che si voleva suscitare buttandosi dalle rocce, non lo fa. E io, il padre poi ammazza entrambi i figli, e ci parla pure da morti, dice che stai facendo lì, ho bisogno di una mano, è un puttanaio. Io vi consiglio di non vederlo, se siete arrivati anche qua. Niente, alla fine ci riescono, ammazzano anche a questo, e riescono a scappare. Tutto qua il film, ragazzi. Nient'altro. Alla prossima recensione. Scusami se sono stato un po' incasinato, ecco. Scusami se sono stati, ecco, 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 ecco.